L'Italia cambia per essere più competitiva e migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. Come? Attraverso il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione, a cui partecipa anche ACI. A proposito, ora c'è un'altra novità. Easy Car di ACI. Il nuovo ecosistema di servizi progettato e realizzato da ACI per facilitare la vita degli automobilisti italiani. Un mosaico di servizi digitali in continua evoluzione, predisposto per erogare nuovi servizi ai cittadini, sviluppato in linea con le indicazioni del codice per l'amministrazione digitale. A chi interessa? A 39 milioni di automobilisti italiani. Tassello principale di Easy Car è il certificato di proprietà digitale realizzato da ACI. Dal 5 ottobre 2015 ne sono stati emessi più di 24 milioni. Quali sono i vantaggi per gli automobilisti italiani? Il certificato di proprietà digitale non può essere smarrito, sottratto o contraffatto. C'è poi l'atto di vendita digitale, grazie al quale tutto il processo di compravendita del veicolo diventa nativo digitale. Si semplificano le procedure amministrative e si garantisce sicurezza, grazie anche all'uso della firma elettronica dei documenti. Non va dimenticata Avvisaci, una vera rivoluzione copernicana. Al centro c'è il cittadino, che una volta registrato sul sito ACI, riceve un'email o un SMS, qualora venga trascritto al Pra un evento su un proprio veicolo. Qualche esempio? La trascrizione dell'atto di vendita, l'iscrizione del fermo amministrativo, oppure la radiazione da parte dell'autodemolitore. E da luglio 2016 è accessibile anche tramite Speed, il sistema pubblico di identità digitale. A breve saranno attivi anche i servizi MyCar, per consultare la situazione fiscale, il CDP digitale e i dati tecnici del tuo veicolo. E InfoTarga, che ti servirà, ad esempio, quando compri un'auto usata. Come? Per verificare se è rubata, se è stata radiata, oppure per consultarne la valutazione, i costi di passaggio di proprietà, del bollo o chilometrici. Facile, no? Tutti questi servizi li puoi usare da casa, dal tablet e da smartphone. Ma anche quando sei nei nostri uffici, grazie alla rete Wi-Fi gratuita. EasyCar. L'Italia cambia. ACI fa la sua parte.